Un giorno in meno rispetto agli avversari, ma questo non ha precluso assolutamente nulla. Ieri è stata una bella giornata, trascorsa assieme alle ragazze in calcio femminile, insieme allo staff, quindi è bello. Però la concentrazione che c'è per affrontare la partita rimane, anzi. Si deve andare a Salerno convinti di poter fare il risultato, ma questo è nelle nostre corde, quindi sappiamo che non è facile, ma sappiamo anche che possiamo portare a casa punti importanti.